Insiste il PSG per il duplice colpo Osimem Kavar e Izkelia dal Napoli per 200 milioni ma De Laurentiis fa ancora muro, Turam dell'Inter resta una soluzione alternativa. Da scommessa a parametro zero ad esplosione totale su scala internazionale. Marcus Turam ci ha messo poco più di una stagione a ribaltare il proprio status nel calderone degli attaccanti di spessore in Europa, sia grazie ai successi di squadra raggiunti con l'Inter che a quelli meramente personali. Inclusa la partecipazione all'europeo, ormai prossimo alla conclusione con la sola finale da disputare. Tale salto di qualità e il buon margine dei crescita di cui dispone lo hanno reso un profilo particolarmente seguito anche dalle big, nonostante ciascuna di esse è ben consapevole di quanto l'Inter sia ferrata sul proprio centravanti perché ritenuto al momento insostituibile per fare coppia lì davanti con Lautaro Martinez. Volgere un'offerta alla dirigenza nerazzurra resta dunque soltanto un'idea lontana dall'essere concretizzata per molti, ma così potrebbe non essere per il Paris Saint-Germain che ancora attende il vero colpo da paura per sostituire l'uscente Kylian Mbappe non ancora presentato in via ufficiale da Real Madrid. Turam però è a detta di alcuni soltanto una forma di ripiego, una pedina alternativa nel caso in cui la dirigenza parigina non dovesse riuscire a raggiungere i due veri obiettivi di mercato di questa sessione estiva. Trattasi di un duplice colpo studiato per privare il Napoli di Vittor Ousimen e Kvika Kvare-Izkelia, entrambi a fasi alterne etichettati come partenti in estate dopo una stagione altalenante vissuta in Serie A, da campioni d'Italia uscenti. Pacchetto completo Ousimen Kvare-Izkelia dal Napoli, il PSG ha in Turam l'alternativa. Stando alle parole di Paolo Bargiglia diramate sul suo profilo X, il duo partenopeo potrebbe essere messo sotto scacco da un'offerta di 200 milioni di euro presentata al cospetto del Napoli. Cifra decisamente invitante ma comunque non vicina alle idee del presidente Aurelio de Laurentiis, restio alla cessione a meno che non ci sia vicini a somme più ingenti che coprano l'effettivo valore di mercato dei due protagonisti azzurri. Del resto, vanno considerati di base almeno 120 milioni per il nigeriano e gli 80 milioni restanti sarebbero pochi per coprire il talento georgiano. Se quest'ultimo viaggia comunque verso la permanenza, lo stesso non può dirsi del compagno di squadra. A quel punto l'attenzione del PSG potrebbe davvero spostarsi su Turam, sebbene le caratteristiche tecniche dei due attaccanti siano simili ed averli entrambi in squadra con il già presente Colomuani, può fare anche l'esterno, NDR, potrebbe apparire alquanto scomodo.